E ciao ragazzi, io sono K007, siamo insieme a Lore e oggi siamo a un fondino con oggetti. Uno è un oggetto, si può trasformare in altri oggetti e l'altro è il cacciatore. E Lore mi deve cercare, ogni tot secondi abbiamo tipo una faccina in basso, tipo ora, con una musichetta e noi non la vediamo però abbiamo una faccina. E ci siamo detti sta regola, visto che le mappe sono grandi. Bli, se lo vediamo, bla, se entra nella stanza. Bla. Esatto. No. Pensa, in una cassa ho trovato sei animali. A destra gli animali servono per trasformare chi... chi è... Non ce la faccio, ok. Ah, ecco. Però sta cosa inganna sempre tutti. E niente. Quanto toglie il fusola pompa? Tipo 15? 15. 3, 2, 1, ok. Ogni round dura 3 minuti, non si può modificare. Non entro in ogni senso perché tanto me lo dice lui, bla, bla. Ok. 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 Murillo Dugno Dugno Un secondo mo mi sposto Bli 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 Si Non mi avevi visto Vero? Esatto Era qui che prima stavo trollando cosa? Lei l'ha capito dopo mezz'ora che doveva salire Ci ha provato venti minuti C'è 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 Uno? Ok, è andato. Sì, ma ora non più. Sì. No. 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 Sì. Mi ero messo qui, mi ero messo qui. Allora, aspetta, aspetta. Ero spawnato qui, ero una sedia, sono venuto qua, ho aspettato che ti muovei da lì. Poi sono andato qui e da lì mi sei pure passato davanti. E lo so, però mamma mia, quando siamo in due o tre, che ci nascondiamo quel trick, pianta più divano lì all'entrata, mamma mia. Furio. Un po' fastidioso. No, no. Allora. Ancora non mi hai visto. Dove sei? In bagno, vuoi forza? Lo sento. Lo sento. Lo sento. Lo sento. Dai che sei morto. Buono. 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 Buono.